Adorate Deu, studio del canto gregoriano, è un introito che si trova a pagina 264 del libro graduale romano, intonazione da Re. Omnissangeli e iu, audivi, eletat aesion, et exultavet, 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 et exenerum filier, Nello studio del canto gregoriano, Giovanni Pianini, Scola Gregoriano Mediolanensis, Milano, Italia, dicembre 2008. Ho cercato di leggere questa melodia non sillabando ma legando molto. Ricordo allora che questo canto si trova a pagina 264 del libro graduale romano ed è un canto tempo per anno. Questo l'ho spartito. Salve.